Non c'è pace per il cimitero monumentale di Arezzo. Dopo aver ricevuto la segnalazione da parte di un cittadino del disservizio che perdura da mesi per il non funzionamento dell'ascensore, arriva una nuova segnalazione alla nostra redazione. Questa volta ad essere messa sotto i riflettori è la situazione all'ingresso del cimitero. La strada infatti, come è possibile vedere anche dalle nostre immagini, è costellata di buche. La situazione anche in questo caso perdura da tempo. Lo stesso cittadino aveva segnalato la scarsa manutenzione già a febbraio, ma nulla è stato fatto. Non mi capacito del perché non si possa provvedere, ha ricordato. Ipotizzo che i grossi conflitti di interesse che ci sono tra le varie autorità e denti con il rimbalzarsi della gestione del parcheggio portano a questo spregevole disservizio. Ma teniamo presente che il parcheggio è occupato anche da tanti turisti, soprattutto quando in città c'è la fiera antiquaria.